Volevo fare un ringraziamento soprattutto alle istituzioni, al di là della casacca politica, gialli, rossi, verdi, arancioni, a me non interessa, non è mai interessato questo, però devo dire che non ci siamo sentite sole, siamo partite due maestre da sole nella loro disperazione, ci hanno contattato tutti, tutti stanno cercando di darci idee, consigli, ci stanno vicine. Il sindaco Mastella più volte mi ha messaggiato, ci siamo sentiti che non era qui e quindi sarebbe tornato mercoledì ed era dispiaciuto, mi ha fatto contattare l'assessore del prete, devo dire un amico che è grande, che è Alfredo Salzano, mi sta stando vicino in tutti i modi e davvero per ognuno per quello che può. Questa volta non so se andrà bene, se la scuola resterà aperta, non so niente, il futuro purtroppo non lo sappiamo, però lo devo dire da cittadina, non mi sono sentita sola.